e salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video in cui farò un nuovo video particolare era da tanto purtroppo che sono stato impegnato in questi giorni però oggi sono libero per fare questo nuovo video che ora vi dirò vi spiegherò di cosa si tratta per ricominciare questo nuovissimo video lasciate tantissimi like e mi piace come sempre iscrivete al mio canale che è gabrie game madonia e ho 149 iscritti prima ne avevo 150 però 178 allora pazienza cercherò di recuperare dai con questo nuovo video magari e niente allora vi spiegherò di cosa si tratta allora innanzitutto vi ricordate che avevo fatto l'ultimo video che avevo messo pure su youtube di questo però l'ho cancellato perché era venuto male poi con le canzoni originali perché mi spuntavano sembra un copyright però oggi ragazzi farò questo nuovo video di una challenge farò il titolo si intitola fidget spin challenge farò questo questa challenge va bene vi auguro una buona visione e guardatevi questo spettacolo via vediamo vediamo Grazie a tutti. 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 Ogni posizione girando lo spin. Vi stavo dicendo ragazzi che era finito il video, si è stoppato il video. Allora lo metterò insieme alla fine che sto facendo, va bene? Cioè è sempre il primo. Allora sto dicendo, questo video non lo cancello, va bene? Che è andato tutto a meraviglio. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che la canzone vi sia piaciuto e sia stato il vostro credimento. E che dire, ci vediamo prestissimo con tanti altri nuovi video e al prossimo video. Ciao ciao belli.